Si è svolto ieri a Favare il raduno regionale dei giovani francescani, coinvolti circa 600 ragazzi che con canti, balle e preghiere hanno animato la festa del Sì. Il tema scelto dagli organizzatori per l'edizione di quest'anno è stato Legalità, io mi impegno. È stata una giornata significativa per i giovani seguaci di Francesco, che in mattinata nella palestra del plesso scolastico Gaetano Guarino di Via Basile, sono stati convolti in un dibattito forum sulla legalità appunto. L'incontro si è aperto con i saluti del sindaco di Favara, Domenico Russello. Al forum, il presidente dei Gifra di Favara, Carmelo Vitello, ha invitato la responsabile regionale dell'Associazione Libera, Flavia Famà, figlia dell'avvocato Famà ucciso a Catania nel 1995 dalla mafia. Presente è anche il presidente nazionale del Parlamento della legalità, Nicola Mannino, ed il suo vice, Pietro Salvaggio. Una preziosa testimonianza su come combattere la mafia l'ha data il professore Nico Miraglia, figlio del sindacalista Accursio, barbaramente ucciso a Sciacca nel 1947. Al dibattito non poteva mancare il coordinatore nazionale del movimento giovanile missionario, Alessandro Zappalà. Particolarmente toccanti sono state le parole di Ignazio Cutrolli, imprenditore dire di Bivona, che da qualche anno vive sotto scorta perché non ha abbassato il capo alle intimidazioni del racket delle estorsioni. Il dibattito si è concluso con l'adesione dei giovani francescani al Parlamento della legalità, l'importante movimento che in Italia è presente in diversi comuni ed istituzioni. Grazie all'accordo siglato dal presidente Mannino con il sindaco Russello, a breve una stanza di un bene confiscato alla mafia nella città dell'agnello Pasquale sarà a disposizione del Parlamento della legalità per poter svolgere anche a Favara la loro opera di sensibilizzazione e lotta contro la criminalità in favore della giustizia. I tanti giovani e esperienze, la città di Favara accoglie la gifra di Favara, si parla moltissimo di legalità. È stato un incontro molto partecipativo, è significativo perché ognuno ha portato la propria testimonianza, ho portato anche la breve mia di tre anni di sindaco di questa città. Tutti abbiamo cercato di trasmettere i valori della legalità, della giustizia e della verità. Non bisogna arrendersi, bisogna stare con la schiena dritta e con molta dignità andare avanti, perseguendo i principi di legalità e di giustizia. C'è stato ricordato il nostro compianto Papa Giovanni Paolo II, così come figure importanti, come impastato Giovanni Falcone, Paolo Borsellino, il giudice Saette Livatino, tanti altri piccoli e grandi eroi della nostra amata terra che quotidianamente immolano se stessi la propria vita e tutto ciò che hanno di più caro per affermare questi principi. Però credo che alla fine il messaggio che possiamo lanciare, che possiamo riassumere di questa straordinaria e intensa giornata è non deleghiamo agli altri il compito di affermare questi importanti principi e valori. Ognuno di noi deve fare la propria parte perché questa Sicilia può rialzare la testa e guardare al futuro con più fiducia se non saranno soltanto i magistrati, gli avvocati, i giornalisti, i poliziotti, i carabinieri a fare la propria parte, ma se lo farà ogni singolo cittadino, se questo grande sogno diventa il sogno di tutti, questa amata bellissima Sicilia potrà veramente guardare al futuro e vivere una vita a colori, come ama dire Niccolò Mannino. Una splendida giornata oggi a Favara con l'accoglienza di oltre 500 giovani francescani provenienti da tutta la Sicilia. Una giornata importante e significativa proprio per l'evento, oggi la ricorrenza del 17esimo anniversario dell'Anatema di Giovanni Paolo II. Questa giornata ricca di significato con la presenza di numerosi testimoni che stanno dando la loro testimonianza di vita su come ciascun uomo, ciascuna persona si possa impegnare concretamente per la legalità, per far sì che questa legalità attecchisca e possa assolutamente essere comportamento di vita giornaliero nei giovani e in tutti i cittadini. Il nostro movimento oggi riceve ancora una volta un segno di incoraggiamento da parte del sindaco Russello, il quale a chiusura di questo grande raduno regionale dei giovani della Gifra ha comunicato che una delle stanze in un immobile confiscato alla mafia sarà data al Parlamento della legalità. Per noi sicuramente sarà un momento anche di grande confronto culturale da questa provincia regionale di Agrigento che porteremo in giro su tutta Italia e diremo ovunque che anche questa città di Favara, che è una città antimafia, che porta avanti un messaggio a colori, ha lanciato una sfida e un segno forte per dire realmente che nessuna notte sarà così lunga da impedire al giorno di ritornare. Il Parlamento della legalità, grazie alla collaborazione del suo vicepresidente Pietro Salvaggio, che è un agrigentino, continuerà ad essere presente in questo territorio perché vogliamo dimostrare con i fatti e con la concretezza che cambiare è possibile. Ce la stiamo mettendo tutta e vedere che i giovani della Gifra hanno firmato con noi questo protocollo e anche il comune di Favara si stringe intorno a noi, significa che credere è ancora una volta un impegno di vita perché, come diceva dalla Chiesa, dobbiamo avere il coraggio la sera di guardarci dentro la nostra coscienza e dire ho fatto il mio dovere, beh, noi possiamo dire che stiamo facendo qualcosa. Anche la Gifra della Sicilia afferma il protocollo d'intesa. Il protocollo d'intesa ormai è per noi un impegno che facciamo con le diverse realtà, con le diverse società o le diverse istituzioni che incontriamo durante il nostro percorso. Diciamo che rappresenta un impegno morale in cui sono le diverse realtà che credono nello stesso obiettivo e poiché è quasi quasi una guerra che noi stiamo affrontando contro la criminalità mafiosa, contro l'illegalità, questo rappresenta un legame unico per poter affrontare tutti insieme un percorso unito. Come i ragazzi riescono ad interpretare il sacrificio di accursione in medaglia? Nell'unico modo valido, il modo cristiano, di vedere ogni prossimo come proprio fratello. Accursione in medaglia si è sacrificato per gli uomini, si è sacrificato per i lavoratori, è giusto che ognuno di noi, se riusciamo a sacrificare una parte di noi per gli altri, abbiamo già reso una grande, grande efficienza alla storia di Accursione in medaglia. Tra le varie testimonianze e anche la sua, quanto è giusto, ma quanto è difficile sostenere la legalità? È giusto perché queste giornate devono esistere e come diceva un grande di mafia si è venuto a parlare sempre in tv, sui giornali, al bar, fra gli amici, quindi i ragazzi sono stati stupendi oggi ed era giusto venire a dare la testimonianza e sentirmi fra loro. Queste giornate ti danno la voglia veramente di andare avanti e di continuare, mezzo a tante difficoltà. Le difficoltà si incontrano ogni giorno, si incontrano sul lavoro, ufficialmente per chi denuncia è difficilissimo continuare, però non ci dobbiamo arrendere e dobbiamo lottare contro questo cancro che è la mafia. Nel pomeriggio i giovani francescani si sono spostati in piazza Cavour, dove i frati, dal palco allestito ai piedi del monumento ai caduti, hanno fatto ballare e divertire i ragazzi. Impressionante è la carica positiva trasmessa ai giovani dai monaci, che per l'occasione hanno svolto le mansioni di musiciste e di dj. Una piazza Cavour in festa, le preghiere accompagnate dal ritmo delle mani hanno illuminato la già soleggiata giornata favarese. Che esperienza porterai a casa? La vita, penso, proprio quello, la voglia di vivere. Caccavo, tipo di caccavo! Che cosa ti ha trasmesso questa giornata? Ma onestamente è stata una bellissima giornata, non me l'aspettavo proprio di essere così, mi aspettavo qualcosa di diverso, ma comunque è bellissimo, molti ragazzi, tutta la parte della Sicilia, è veramente... spero, non vedo cosa che ci sia un altro evento del genere. Scusami, di dove sei? Io, il Biancavilla. Che cosa ti ha trasmesso oggi questa giornata? È stata una bella giornata, mi sono divertita. Oltre quindi alla legalità, che cosa porterai a casa? Porterò tante cose, perché oggi abbiamo appreso molte cose. È trasmesso gioia e felicità a questi ragazzi qui. Che cosa porterai a casa? Porterò sorrisi dei ragazzi che ho incontrato questa giornata meravigliosa. Che cosa trasmettiamo a chi non era presente? Che cosa trasmettiamo a chi non era presente? Una bella domanda. Sicuramente quello di non fare silenzio e di non essere omertosi, e quindi di combattere e di lottare. Il raduno regionale dei Gifra si è poi concluso con la celebrazione della Santa Messa del Vescovo di Agrigento Monsignor Franco Montenegro. Il messaggio è quello del Vangelo. Sbracciamoci e lavoriamo. C'è un mondo che ha bisogno di noi. C'è Dio che ci manda. Se vogliamo essere fedeli al sì, che oggi è stato pronunciato, ci tocca percorrere le strade guardando il cielo, ma soprattutto pigliando i vicoli più difficili, perché è là che lui ci manda, ma soprattutto è là che siamo sicuri di incontrarlo, perché lui è più veloce di noi e arriva sempre prima. Quindi, mentre lo portiamo, andiamo a cercarlo. Particolarmente soddisfatto dell'immagine che la città di Favara ha trasmesso per l'occasione è stato il primo cittadino Domenico Russello, che ha assistito alla funzione religiosa in compagnia, tra gli altri, del suo vice, Lillo Montaperto, e dell'assessore comunale, con delega alla protezione civile, Lillo Attardo. Una giornata dedicata alla legalità e alla fede. Momento, devo dire, straordinario, sì, dedicato alla legalità e alla fede. Elementi principali per il proseguo del quotidiano, un quotidiano positivo e di crescita. La legalità è una parola grande e straordinaria che sicuramente ci porta verso una riflessione positiva. La fede, i comandamenti, se noi facciamo caso, sostanzialmente i comandamenti non sono altro che tutte le leggi messe assieme, o meglio, tutte le leggi nascono dai comandamenti, per dire meglio. Quindi dico, affidiamoci veramente a quella che è la grazia di Dio, al pensiero positivo per favorire questa nostra crescita e dire sì veramente alla vita. La sicurezza all'avendo è stata garantita dai carabinieri della tenenza di Favara, dai vigili urbani e dai volontari dell'Associazione Locale di Protezione Civile. L'assistenza sanitaria, invece, è stata offerta dalla compraternita Misericordia.